La notizia è stata diffusa dall'ufficio stampa della clinica del direttore generale, quindi il problema qual è stato? Io non ho ricevuto notizie dall'ufficio stampa della clinica, quindi non posso commentare notizie che non conosco. Se vuole ripetermi la domanda la terza volta, non è la prima volta che lei ha questo atteggiamento nei confronti dei giornalisti, noi stiamo lavorando, io non sono venuta a divertirmi a fare domande a vuoto. Lei come presidente della regione Abruzzo, in merito, al di là di quello che dice la direzione generale della clinica, una nota diffusa alla stampa dal sindaco dove c'erano le dichiarazioni anche della direzione generale della clinica. Quindi che cosa è successo? La clinica di Cerano non diventerà più un ospedale covid? Io non so come dirglielo, ma se non ho questa notizia dalla clinica, che cosa devo commentare? Quindi non lo sa. È evidente che non c'è una presa di posizione, ci sarà stata una problematica tecnica. Al di là della problematica, se non si è concretizzata la cosa, nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni, si capirà il perché non si sia concretizzata.